Salve ragazzi, quest'oggi vorrei recensirvi il Dillandog Colorfest numero 25, I conigli rosa muoiono. Ecco qui, è una storia con soggetto e sceneggiatura di Luigi Mignacco, e di sendi abbiamo Cesare Valeri, per la colorazione abbiamo Sergio Algozzino, ma passiamo a parlare della copertina di Lorenzo De Felici. Eccola qui, una copertina che mette in risalto i colori di questa storia, Dillandog triste in mezzo a tutti i personaggi del Paese delle Ombre colorate, la scritta in rosso, quasi amaranto, Dillandog, ovviamente i colori mettono in risalto questa bella copertina di Lorenzo De Felici, una copertina che induce poi ovviamente il lettore a leggere questa storia, che andremo a vedere, parlerà ovviamente di un personaggio storico, o comunque apparso nel vecchio Dillandog, che i vecchi lettori riconosceranno subito. La storia, i disegni appunto sono di Cesare Valeri, come era all'epoca dell'uscita della prima storia dell'albero, di Dillandog numero 24, Conigli e Rosa uccidono, eccolo qui, che la storia era sempre di Mignacco e i disegni c'erano Valeri e Piccatto, la storia originale è del 1988, quindi parliamo di una storia di 30 anni fa, poi riproposta, la continua nel numero 107, Il Paese delle Ombre colorate, una storia sempre ovviamente di Mignacco, qui e i disegni c'era soltanto Piccatto, la storia è del 1995, quindi qui andiamo a parlare della storia di Mignacco, ovviamente il personaggio principale è Jumbo, cioè il coniglio rosa Pink Rabbit di questa città immaginaria, Il Paese delle Ombre colorate, Dillandog si ritroverà in questo mondo, scaraventato nel mondo del Paese delle Ombre colorate, dove i personaggi non muoiono, sono frutto comunque dei sogni di Dillandog, Dilland si ritroverà in questo mondo, ritroverà un bel po' di personaggi di questo Paese delle Ombre colorate, praticamente poi a un certo punto della storia si vedrà Dilland che sarà in un letto d'ospedale, in coma, comunque sta sognando di ritrovarsi immerso di nuovo in questo Paese, è una storia veramente strana per Dillandog, ma bella, un certo punto proprio con i colori, vediamo qui, sembrerà di essere immersi in una storia quasi Disney, però Luigi Mignacco ha fatto un ottimo lavoro, perché una cosa iniziata nel 1988, poi riportata in auge nel 1995, e ora con questa storia nel Color Fest, ha riportato in auge appunto questo personaggio Pink Rabbit, che ha avuto sempre un rapporto conflittuale con Dilland, questo rapporto sarà riproposto in questa storia con Illy Rosa Muoiono, dove a un certo punto però poi Pink Rabbit aiuterà anche Dilland, Dilland si ritroverà appunto in questo mondo, dove non può morire, però se ne accorgono subito ovviamente gli abitanti del Paese delle Ombre Colorate, che lui è un umano fatto di carne, come si suol dire, e mi sono segnato appunto delle citazioni, a pagina 11, a pagina 11 Pink Rabbit praticamente vuole uccidere Danny Dog, che è un personaggio delle Ombre Colorate, e gli dice Danny tesoro, non ti farò niente, soltanto quella testa te la spacco in due, e qui a pagina 11 ho colto questa citazione del film Shining di Jack Torrance, quando dice a Wendy, Wendy ti spacco quella testolina, questa è una citazione che ho trovato, poi una particolarità di disegni di Cesare Valeri, ho trovato questa a pagina 32 e 33, una storia completamente a colori, però pagina 32 e 33 ci sono degli intermezzi in queste due pagine, in cui vediamo Dylan in bianco e nero quasi, colori scuri e comunque non a colori ovviamente, Dylan Dog sarà in un letto qui in coma e non starà bene, ma senza spoilerare vorrei dirvi che poi ovviamente tutto sarà collegato alla storia, dove moriranno anche dei personaggi per quanto riguarda il Paese delle Ombre Colorate, e loro si stupiscono ovviamente perché dicono che non possono morire, e se la prendono con Dylan e gli dicono che questo personaggio è venuto dal mondo, dal pianeta Terra e ha portato il virus morte, ma questa sarà appunto la prepista per tutta la storia di quello che succederà, Dylan si troverà in difficoltà, però si farà rispettare come sempre, e quindi una storia, come detto, strana, però piacevole, piacevole perché scorre anche questa, diciamo che nei Colorfest ovviamente si, come dire, si fanno sempre cose diverse rispetto agli albi regolari, devo dire che qui comunque c'è un sceneggiatore esperto come Luigi Mignacco, ha fatto veramente un buon lavoro, i disegni di Cesare Valeri sono veramente belli, come anche la colorazione di Sergio Algozzino, che fa sempre il suo. Che dire di questa storia? Colorfest numero 25, i conigli rosa muoiono, la raccomando, e dico comunque alla gente di leggerla, perché comunque è una storia diversa, dalle altre, come detto, si distingue, forse molto probabilmente sarà l'ultima apparizione per Pink Rabbit sulle pagine di Landog, cioè alla fine era dal 95 che non usciva, quindi ben 23 anni fa, però è stata riproposta molto bene da Luigi Mignacco, e devo dire che per intero mi sento di promuovere questa storia, di questo Colorfest, il prossimo Colorfest uscirà il 9 agosto, si chiamerà Creepypest, il numero 26, ma questo numero 25, i conigli rosa muoiono, è veramente un buon albo, per cui lo raccomando, posso consigliarlo benissimo a tutti, e niente, di Landog Colorfest numero 25, i conigli rosa muoiono, è promosso, un buon albo, quindi sento di promuoverla. Grazie a tutti, alla prossima recensione.